Buon packaging a tutti! Oggi vi presentiamo il nuovo sistema carta di riempimento e protezione Quick Wrap. Nuovo sistema che funziona attraverso l'abbinamento di una carta alveolare in 3D a nido d'ape e una carta velina bianca. Lo scopo è quello di avvolgere e proteggere oggetti particolarmente fragili, oltre che fare da separatore. Risulta essere l'alternativa più ecologica ed economica al pluriball in bolle d'arie in foglietilene. La caratteristica è quella che si taglia con le mani, si autosigilla incastrando il nido d'ape, non graffia e blocca i prodotti all'interno della scatola. Il prodotto risulta economico, ecologico, salva spazio, di design e soprattutto molto pratico in quanto si può bloccare con le mani. Facilità di spostamento del prodotto nelle varie postazioni di lavoro. Inoltre vi ricordo che l'abbinamento tra la carta alveolare e la carta velina risulta essere la miglior protezione in questo momento agli urti per i prodotti particolarmente fragili. Il prodotto può essere utilizzato attraverso un box che funge da dispenser o attraverso un sistema dedicato per l'utilizzo. Questo è quello che facciamo con passione tutti i giorni. Soluzioni nel mondo del packaging. Rimanete in ballo con noi!